Sono quasi 40.000 emigranti sbarcati in Italia nel 2023, quattro volte di più dello stesso periodo dell'anno scorso. Il sistema d'accoglienza è sotto forte pressione e il Viminale cerca soluzioni per non farsi travolgere dai flussi sempre più imponenti, specie dalla Tunisia. Oggi ci sarà il primo faccia a faccia tra il ministro dell'interno Piantedosi, il commissario all'emergenza Valerio Valenti e le cinque regioni che non hanno sottoscritto lo stato d'emergenza, Puglia, Campania, Toscana, Emilia Romagna e Valle d'Aosta. Intanto non si fermano le vittime. I corpi di due donne sono stati recuperati in acqua e sarre italiane, mentre l'OIM parla di 55 ennegati a largo della Libia. La nave Astral di Open Arms ha in queste ore intercettato un gomone con 38 persone a bordo, partito anche questo probabilmente dalla Tunisia. Astral era salpata ieri da Lampedusa. E proprio lo sblocco auspicato da Roma nella tranche di 300 milioni di dollari del prestito del Fondo Monetario Europeo alla Tunisia non si sta concretizzando. Il pacchetto d'aiuti potrà essere elargito solo se prima vi sarà un accordo della stessa Tunisia con il Fondo Monetario Internazionale. Sulla Tunisia ancora siamo indietro, stiamo insistendo perché si dia la prima tranche di finanziamenti, perché si favoriscano le riforme. Poi se ne potranno dare altri, mano a mano che le riforme si realizzano. Ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani, la commissaria europea agli affari interni Ilva Johansson è in viaggio proprio per la Tunisia. In Italia la priorità resta Lampedusa, lo spot è al collasso con più di 3.000 ospiti a fronte di una capienza di 400. Sono partiti ieri sera i primi 400, poi oggi e domani i trasferimenti riguarderanno altre 2.500 persone. Poi nei prossimi giorni saranno attivati altri 850 posti di primissima accoglienza. L'isola lo fa sapere direttamente il Viminale. Gli sbarchi a Lampedusa continuano ad essere tantissimi. Intanto oggi in arrivo al porto di Napoli la Geo Barents con 75 emigranti salvati.